Consigliere, avete ipotizzato, valutato dove colpirà soprattutto la spending review? Quali saranno i tagli più incisivi nel sistema toscano? Intanto dobbiamo partire dal presupposto che i tagli che provengono da questa revisione della spesa sono dei tagli sostanziosi che toglieranno alla Toscana molte risorse. 60 milioni sul bilancio di quest'anno per quanto riguarda la sanità, 250 sui prossimi due anni. In più ci saranno circa 150-200 milioni sul resto del bilancio. La regione toscana vuole fare uno sforzo invece per intanto mantenere i servizi, la sanità pubblica e universale, non abbandonare lo stato sociale, mantenere i servizi anche di qualità come in questi anni è riuscita a costruire con la collaborazione dei comuni e delle province. Per far questo ovviamente ci sarà bisogno di andare a vedere in maniera oculata di continuare con i risparmi, con i tagli della spesa improduttiva. Probabilmente ci sarà bisogno anche di chiedere una compartecipazione ai cittadini per quanto riguarda i trasporti, per quanto riguarda i servizi sanitari, ma noi vogliamo farli con una progressività, vale a dire chiedendo di più a chi può pagare e risparmiando invece chi è in difficoltà.